Ciao a tutti, oggi ci occupiamo di come creare un deposito per gli studenti affinché possano consegnare dei compiti, delle risorse o dei materiali di qualsiasi natura. Le procedure che vi spiego valgono per tutti, sia per chi utilizza delle piattaforme, sia a titolo individuale e anche per coloro che all'interno delle piattaforme utilizzano dei sistemi istituzionali di consegna e ritiro dei compiti, come per esempio avviene in Classroom di Google, nella G Suite. Vediamo di che cosa si tratta. Prima di tutto questo è un metodo delle procedure che vanno bene per chiunque, per chi usa anche delle piattaforme istituzionali o per chi utilizza degli strumenti individuali. L'importante è eliminare una comunicazione costante fatta di email e di altri strumenti che intasano l'insegnante, confondono gli studenti, creano una ridondanza all'interno della comunicazione. Quella procedura è interessante per il fatto che abbiamo necessità a volte di richiedere un ritiro di compiti, quaderni, materiali, documenti che non passa attraverso le procedure istituzionali se siamo all'interno di determinate piattaforme come Google Moduli. E d'altra parte potremmo avere la necessità di richiedere questi documenti nel caso in cui operassimo anche individualmente e quindi dovessimo strutturare un sistema organico, razionale e ben impostato. Noi utilizzeremo Dropbox e Google Moduli che sono due applicazioni gratuite per creare appunto un deposito. Quindi sarà l'insegnante che attraverso queste due applicazioni sceglierà naturalmente se usare Dropbox o Google Moduli, crea questo deposito che collocherà all'interno di una piattaforma o di un sistema, il sistema che ha deciso di adottare per il suo insegnamento a distanza. Naturalmente poi lo studente consegnerà i suoi compiti e materiali attraverso questo deposito e sempre attraverso questo deposito l'insegnante li ritirerà. Vedete che il funzionamento è molto semplice. Questo è il deposito che si crea con Google Moduli e questo invece è il deposito che si crea con Dropbox e questo è il risultato per esempio all'interno di una piattaforma perché poi basta recuperare i due link dei depositi che abbiamo creato e sistemarli all'interno appunto del vostro sistema organizzativo. Adesso vediamo concretamente come si realizzano. Dropbox è un'applicazione gratuita molto diffusa. Quando siete all'interno dei miei file trovate l'opzione richiedi file. Richiedi file vuol dire appunto richiedere a qualcun altro il file. Stabilite un titolo, deposito e poi semplicemente andate avanti con la procedura, potete inserire degli indirizzi mail ma quello che a voi interessa alla fine è copiare questo indirizzo che collocherete e poi dentro la vostra piattaforma con il vostro sistema per creare proprio il luogo deposito attraverso il quale gli studenti invieranno i loro documenti. Con il sistema Google aprite la dashboard, utilizzate Drive Moduli oppure cercate direttamente l'applicazione Moduli, create un nuovo documento, assegnate come titolo deposito e poi osservate. Anziché inserire una domanda, fra le opzioni scegliete caricamento di file. Andate avanti, impostate le specifiche, per esempio consenti solo tipi specifici di file, li potete scegliere oppure li lasciate tutti. Vedete che possono consegnare anche audio e video. Dite che per ogni studente il massimo di file che può consegnare ogni volta è 5, poniamo e stabilite un limite in megabyte, 10, 100, quello che è. Dopodiché attraverso il pulsante invia ricavate l'indirizzo che è quello che dovete inserire nella vostra piattaforma o comunicare in qualche modo ai vostri studenti. E il risultato sarà questo, per esempio per chi lavora con Classroom attraverso la G Suite del proprio istituto, crea un materiale, titolo deposito e poi eccolo qua, avrà aggiunto un link che è il link che recupera o da Google Moduli o da Dropbox, che è quello che poi consente agli studenti di utilizzare questo deposito. Come avete visto la procedura è molto semplice, efficace e funzionale. Per oggi è tutto, ci risentiamo per altri webinar e altri interventi. Ciao! Ciao!